Grazie a risultati ottenuti con l'associazione Città senza periferie che con la collaborazione di tanti cittadini ha dato veramente un segnale positivo sul territorio, abbiamo deciso di scendere in campo per mettere a disposizione dell'amministrazione la nostra conoscenza del territorio e il nostro impegno all'interno delle istituzioni. Ovviamente ci proviamo sperando di ottenere un ottimo risultato proprio per sollecitare le istituzioni alle problematiche che abbiamo più volte segnalato. Il nostro impegno principale deve essere l'ordinaria amministrazione, cioè noi non dobbiamo chiedere alle istituzioni di fare le famose strisce pedonali, ma ci deve essere proprio un programma dove se questa vernice dopo tre mesi sparisce a due mesi e mezza bisogna riprogrammare tutti gli interventi oppure trovare una vernice che resta indelebile almeno per 6, 7, 8, un anno, si può fare questo qua. Poi il nostro impegno sarà sempre nella pulizia del territorio, cioè noi chiederemo un servizio di spazzamento radicale perché oggi sollecitare i cittadini a ricredere le istituzioni è questa, l'ordinaria amministrazione, quindi sarà proprio il nostro impegno primario. Poi per quanto riguarda se ci saranno interventi straordinari, certamente sarà una richiesta a parte, un percorso diverso, ma noi dobbiamo sollecitare i percorsi principali, cioè il problema giornaliero che esiste nei vari quartieri di San Pietro, Patieno, Miane, Seconditiane e ovviamente nel resto della città. Il impegno che come città senza periferie portiamo avanti è la riqualificazione del territorio e se non anche la delocalizzazione del campo Roma, ma rispettare le condizioni di riqualificabilità che là sono zero, cioè là veramente c'è il rischio epidemie. Un altro punto fermo che saremo veramente testardi a portare avanti sarà la questione delle buche perché deve essere veramente preso in considerazione alcuni tratti micidiali dove purtroppo ogni settimana affiorano buche, quindi come è avvenuto per Charles Lindbergh e come è avvenuto per via Selva Cafaro, mettere in programmazione queste strade ed una di queste è proprio cupa di segretario che è veramente un tappeto di rappezzi.